Ma tu non berrai mica l'acqua del rubinetto? No, no, per niente. No? No. Perché? Perché c'è un gusto strano. No, bevo l'acqua naturale, della bottiglia. Della bottiglia, perché? Penso che sia più pura. Acqua minerale o vino? Certo che la bevo. Davvero? Sì. Perché? Perché è buona. Scusa, ma tu non berrai mica l'acqua del rubinetto? No. Perché? No, perché preferisco bere l'acqua in bottiglia. Mi sento più sicura? Io sì. Buonissima, saporita, poi sicura. Beh, sì. Quando capita, sì, quando sete. Normalmente a tavola, però ammetto, bevo l'acqua minerale. No, noi non beviamo acqua del rubinetto. No, non bevi acqua del rubinetto? No. No, no, io bevo acqua normale. Perché mi vado a prendere l'acqua normale, non mi piace quella del rubinetto. Quella normale, non quella del rubinetto. In bottiglia. L'acqua del rubinetto non la bevo, io bevo acqua minerale in genere. Scusi, Don, ma lei non berrà mica l'acqua del rubinetto? Io sì, bevo l'acqua del rubinetto. Perché? Perché ci dicono che a Milano l'acqua del rubinetto è la più pura, la più controllata e la più buona. No, no, assolutamente no. Perché? Perché non mi piace. Perché è piena di calcare, poi non so da dove arriva, no, no, non mi piace per niente. Io bevo solo l'acqua in bottiglia. Quando capito? Perché devo bere l'acqua del rubinetto? No, così la beve. No. Io no, bevo l'acqua minerale. Certo che bevo l'acqua del rubinetto. Davvero? Sì. Perché qua nelle zone di Cologno e Milano l'acqua è la migliore d'Italia. C'è la propaganda del Cologno. Becati qui. No, che propaganda. No, ha ragione, vai, ha ragione. L'acqua del rubinetto, perché c'è un visio, che tutti vanno per un'acqua minerale, però i pensionati lasciano là 5-6 euro per ogni due confessioni d'acqua. E allora la pensione non è più abbastanza. Ora dobbiamo bere il Cologno del rubinetto perché è buona. Perché è buona. Perché è buona. Scusi, dottoressa, una domanda. Quando si presenta qui un suo cliente che si è avvelenato bevendo l'acqua del rubinetto, lei che cosa gli propone? Ma l'acqua del rubinetto avvelena, non è mai successo. Non lo so, chiedo a lei. No, no, non è mai successo, ci mancherebbe. Grazie.